La NASA ha lanciato due sonde gemelle verso la Luna, obiettivo scoprire i segreti del satellite e attraverso la sua storia capire meglio quella della Terra e del sistema solare. Tre mesi e mezzo di viaggio, poi una volta a destinazione, raccoglieranno dati per saperne di più sul campo gravitazionale sull'interno della Luna.